Tre francesi dell'associazione Roya Citoyen sono stati denunciati dopo aver distribuito cibo ai migranti a 20 miglia, un comportamento che va a violare un'ordinanza firmata dal sindaco Enrico Ioculano. I francesi avevano infatti distribuito senza autorizzazione couscous, tè, pane e acqua. Siamo di fronte al capovolgimento di ogni logica, ha dichiarato Patrizio Gonnella, presidente della Coalizione Italiana per le libertà e i diritti civili. Utilizzare il diritto per colpire e punire episodi di solidarietà non può avere e trovare alcuna giustificazione. A quanto abbiamo appreso, i ragazzi sarebbero arrivati a 20 miglia con una macchina carica di generi alimentari e avrebbero iniziato a distribuirli ai migranti presenti alla frontiera con la Francia. Dopo pochi minuti la polizia li avrebbe interrotti e condotti in caserma per identificarli, schedarli e denunciarli. L'ordinanza del sindaco era stata presa per motivi igienico-sanitari ed è stato lo stesso primo cittadino ad intervenire su questa vicenda. Chi vuole aiutare ai canali per farlo ha scritto sulla sua pagina Facebook. La mia amministrazione si è sempre battuta per l'accoglienza, per il superamento dei confini e perché si costituissero dei corridoi umanitari europei affinché non si muoia sulle nostre autostrade o ferrovie, ha aggiunto. Siamo l'unica amministrazione che ha preteso che il campo gestito dalla Croce Rossa fosse aperto a chiunque senza bisogno di identificazione. Siamo stati gli unici a pretendere che le associazioni di volontariato partecipassero alla vita del campo. Mai, ha concluso il sindaco Ioculano, si è negato cibo a qualcuno.